salve a tutti è arrivato il momento di fare il video di provare a fare il video in merito a quello scatolotto la che mi accompagna da circa 15 anni era di mio zio di un mio zio alfredo era se n'è andato nel 2007 per me è stata una persona molto 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 importante era un bravissimo artigiano un rilegatore era molto affezionato a lui ma questo a voi interessa poco tra le tante cose che mi ha lasciato per lo più libri ci sono un paio di oggetti elettronici quello è un giradischi che era in realtà da collegare con una radio che avevano a casa di mia mamma perché una volta nella radio a valvole c'era dietro la presa a fono e poi ci si attaccava un grammofono elettrico e così si aveva anche la radio a valvole fungeva da amplificatore di fatto la radio peraltro è una Ducati quindi pure una radio di elevato valore però ce l'ho pure quella messa nel bunker di Vasanello e sta là in attesa di un restauro perché poi necessita di un vero e proprio restauro fatto da chi lo sa fare per davvero io non sono all'altezza comunque sia adesso la cosa è quello lì quello scatolotto là perché per tanto tempo sapevo che erano giradischi ma non me ne sono mai curato finché un giorno ce l'avevo sempre lì nel bunker di Vasanello che è il mio magazzino doveva essere il mio laboratorio poi sono andato via da Vasanello ed è rimasto ovviamente un magazzino semplice e un giorno l'ho aperto e sono rimasto basito perché mi sono trovato di fronte a un oggetto di design bellissimo il giradischi è brown e ho scoperto un mondo dietro questo giradischi adesso sposto lo smartphone da questo supporto e lo metto su quest'altro così lo potremo vedere dall'alto ve lo apro e ve lo faccio vedere bene da sopra sky means business sky means business sky means business in frattempo per provarlo siccome io ho regalato il mio giradischi dual contanto di stenton 681 triple e al mio ex collega michele non ho e con tutti i dischi una botta da matto gli ho regalato tutto anche perché con un bambino piccolo è inutile pensare di poter ascoltare i dischi a casa però rimasto senza dischi e ora un giradischi senza i dischi con che lo provo per fortuna nello stesso bunker ho trovato questi c'è Eter Parisi disco bambina Bruno Lauzzi la tartaruga e virgola di Joslem giusto per provare perché poi sapete che al di là dei brani insomma su youtube li possiamo tenere solo pochi secondi giusto per vedere se funziona soprattutto il come funziona ma perché c'è un problemino da capire ma adesso passiamo all'altro supporto e vediamo tac ci aggiustiamo un po' il tiro lo spostiamo un po' va benissimo ecco qua ora lo apriamo e capite ora la sorpresa che mi sono trovato di fronte quando l'ho aperto è bellissimo mi ha stupito per la sua bellezza è un giradischi a puleggia questa si toglie semplicemente qui sotto c'è la puleggia cambio tensione eccolo qua è un brown pcs pc 3 sv qui c'è anche un forellino dove mettere un fiocchetto per poter bloccare il braccetto cambio di velocità 78 45 33 16 allora ho scoperto un mondo su questo giradischi perché praticamente ho scoperto che è stato fatto disegnato dal progettista dal designer di riferimento della brown che è dietro rams e dietro rams è il parte fatto che appunto nella sua carriera in in brown ha collezionato una serie infinita di oggetti bellissimi adesso metto in sovraimpressione lui nel suo studio guardate lo stereo alle sue spalle che cosa può essere nello stereo alle sue spalle c'è il giradischi quello lì deriva da questo che è il suo primo giradischi come ho detto prima questo non è veramente un giradischi si ok ma è più opportuno chiamarlo un grammofono elettrico ora dietro rams addirittura è stato proprio con questo specifico giradischi è stato il l'ispiratore di jonathan eves che fino a due anni fa è stato il designer di riferimento della apple infatti se ci fate un po caso questo accrocco questo accrocco somiglia a un accrocco molto famoso della apple magari se lo mettiamo così gli somiglia un gran tanto pensateci un po' a chi somiglia nel frattempo andiamo avanti bene prima cosa attacchiamo la corrente io già l'ho fatto in passato quindi vado abbastanza sul sicuro però mi serve una cosa importante che è la spina quindi andiamo a vedere di trovare una spina qui dice chiaramente la legge di mafie quando cerchi un oggetto non lo trovi mai ok giustamente oggetto tedesco ha una spina pseudo simens no non serviva nemmeno la simens è finca ok allora 78 giri 45 giri e si fa come si faceva una volta prima si tira indietro e via poi qua giù si spegne bene bene funziona cioè questo c'ha 50 quasi 60 anni sto coso ora il dubbio che mi assale è che qui praticamente da questo giradischi escono due cavetti ora voi direte beh certo uno per canale manco per niente perché questo qui è mono perché questi erano gli attacchi tipici dell'epoca perché dietro alla radio e valvole a tutte le radio e valvole c'era proprio la presa a fono e ci andavano le banane e alla faccia del ronzio eccetera eccetera quindi perché ne ho due mi è venuto un dubbio e il dubbio forse è veramente una cosa proprio tedesca questa il dubbio è che qui praticamente abbiamo il commutatore della testina come c'era sempre anche nelle foto nelle fono valigie nelle cose dell'epoca ovvero il cambio della puntina da microsolco a normale il normale serviva per 78 giri il microsolco serviva proprio per il microsolco che era quello dei 45 giri come questi oppure quello dei 33 giri ovvero anche chiamati long playing lp allora per vedere un po' come funziona io ho un problema di fondo non ho un amplificatore da attaccarci qui quantomeno dovrei fare un adattatore da banana a pin rca ma in questo momento non ce l'ho allora ecco qua un'altra bella cosetta vintage eh? tadaaa eh? vi piace? cuffia telefonica siemens da centrale questa è eccezionale perché c'è l'uscita sia a 10 km che ha lo standard a 600 ohm la mettiamo su 10 km quindi alta impedenza e se l'attacco a uno di questi dovrebbe funzionare e questa la appoggiamo qua purtroppo la sentirò solo io vi avvicinerò magari al microfono la cuffia per farvi sentire qualcosa ma sicuramente se non ricordo male si sentirà anche qualcosa direttamente dal braccetto ora prendiamo la gara ether parisi mettiamo il lato b va togliamo questi il lato b black out chi è? pronti? tremmo un po' la mano ta 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 45 giri ok quindi ecco come si faceva eh col giradischi poi delicatamente una ceppa e io nel frattempo cerco quale dei due questa cuffia è talmente sensibile che si sente ronzio allora vediamo un po' se è questo qui non si prende niente su questa coppia di banane proviamo l'altro cavetto che quindi è quello giallo nero eccolo qua quello giallo nero funziona provo a farvi sentire va si sente? si sentirà poco sicuramente oh la cosa bella è che questo coso di acceso dopo svariati decenni funziona ancora e la cosa sconvolgente è che non non perde velocità e ancora ancora mantiene la velocità giusta un sistema a puleggia fantastico signori con l'immensa gioia che questo coso funziona e funziona egregiamente nella speranza quanto prima di attaccarlo ad un amplificatore quantomeno qui al mio amplificatore di nuova elettronica che ho qui l'LX114 che ce l'ho attacca ce l'ho in laboratorio che ho costruito una marea di anni fa quando ero ragazzotto provo ad attaccarlo lì ma prima devo fare appunto un adattatore da banana a a cosa a pin RCA con l'occasione con l'occasione ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale ho finalmente superato la soglia dei mille iscritti finalmente dopo tanto tempo ho superato la soglia dei mille iscritti e questa è l'occasione anche per ringraziare tutti quelli soprattutto quelli che negli ultimi giorni dopo una mia rottura di scatola ve li ho contattati uno per uno si sono iscritti adesso praticamente andremo a a lavorare per il secondo step che è quello di avere 4.000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno aiutami tu PC3 PC3 aiutami tu ciao a tutti e grazie ciao a tutti